La rivolta ha a che vedere soprattutto con come non accettare le regole della città del teatro, dove all'inizio io non fui ammesso perché ero incapace di vivere, non conoscevo le regole, era giustissimo direi che le persone che vi abitavano dicessero a me e anche ai miei compagni voi non siete capaci di poter vivere in questa città. E allora noi andiamo e ci siamo dovuti costruire uno strano villaggio, quello che chiamo una baracca, un baraccone, questo baraccone può essere anche al centro stesso della città, non necessariamente essere una catapecchia alla periferia. La magnifica rivolta è che tu non segui il modo di pensare e di agire comune. Questa rivolta è soprattutto la capacità di trovare persone che involontariamente o consapevolmente hanno lo stesso tipo di virus dentro di sé.